Musica Bello a tutti ragazzi benvenuti a questo nuovo video, io sono Tiger e oggi sono qua con un nuovo video Innanzitutto ragazzi scusate per l'inattività di quasi due settimane Come avete visto ragazzi dai video dei Pirlas Wu sono apparso qualche volta Ragazzi vi spiego il motivo per la mia assenza Sono mancato per il semplice fatto che a scuola non sta andando come sperato Fatto sta che comunque oggi ho la verifica di matematica che io e la matematica siamo veramente, lasciamo perdere Siamo un po' come blure le restrizioni su Youtube Ragazzi innanzitutto vi scuso di nuovo, lo so, sto vloggando Ho cambiato videocamera Magari iscrivetemi qua sotto se volete che io faccia un recap di tutte le attrezzature che possiedo per realizzare qualsiasi tipo di video Che cappuccio ambiguo ho, oh mio dio che schifo Io adesso vado a scuola e noi ci vediamo dopo Ho subito matematica alle prime ore Io aspetto ancora quel momento in cui la prof verrà da me e dice perché non scrivi? Guarda che questo ti servirà nella vita Ma... Di che vita stai parlando? Cioè dai, dai, dai che cazzo stai dicendo? Cioè no, non è... Non ho più parole, solo parolacce, a dopo Ragazzi, sono tornato da scuola Sì, sempre col cappuccio in testa ragazzi Adesso probabilmente starò tutto il tempo sul divano, tutto il giorno E sto facendo la pasta Quindi adesso che si sta preparando il pranzo Non lo so, questo video non ha senso Ragazzi, comunque io non ho molto da dire in questo video Quindi mi sa che lo interrompo qua In ogni caso, qualsiasi cosa vorreste vedere in futuro in questo canale Scrivetemelo qui sotto nei commenti Oppure su Instagram Tigerofficial trattino basso ragazzi Come è scritto qua Basta che me lo scriviate qua sotto con un commento Oppure su Instagram tramite i direct Tigerofficial trattino basso Andatemi a seguire Mi raccomando ragazzi che dobbiamo crescere anche lì Scrivete proprio adesso il video che volete vedere Mi raccomando E niente Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga